La scuola deve avere una roccia di conoscenza che è il sapere disciplinare, cioè il sapere concettuale, quello che la scuola italiana fa benissimo da decenni ed è consegnare una grande tradizione di saperi, quindi di concetti, di teorie, di visioni. Dall'altra parte, ed è qui il di più che stiamo imparando al Malpighi Lab nel lavoro comune, è quello che lui ha chiamato il giardino della creatività. Sarà perché i nostri laboratori sono qui in giardino, ma è quello che stiamo sperimentando da diversi anni, da che esiste il Malpighi Lab, questo tentativo continua di portare la classe, dalla classe a questo giardino dove accade l'esperienza della libertà, della creatività e anche dell'approfondimento della propria passione. Il primo lavoro del Malpighi Lab è stato, con i ragazzi guidati dal professor Raggi, progettare il Malpighi Lab. Poi l'abbiamo costruito, senza la Bonfiglioli S.p.a. non saremmo riusciti a fare nulla di quello che abbiamo costruito in questi anni e all'interno del laboratorio sono passate centinaia e centinaia di studenti, di studentesse che si sono appassionate, e qui finisco, al mondo della ricerca, dell'innovazione, della creatività, che mette insieme la mente, il cuore, le mani e aiuta a far diventare realtà delle idee, anche utilizzando delle materie importanti e difficili come l'informatica, la matematica, la fisica e l'ingegneria. La scuola, il mondo della formazione, è proprio l'elemento in cui un'azienda che ha questo senso diciamo di valore sociale deve garantire il ponte. Il ponte è tra quello che è il futuro, che intravede, che accadrà, e quello che è l'accompagnare la società verso questo futuro. E quando con Elena ci siamo trovate, avevamo appunto costruito quest'idea, che come da una parte era la rocca della conoscenza e dall'altra parte il giardino per sperimentare e per divertirsi. Perché io credo che qui abbiamo tanti ragazzi, i miei figli hanno fatto il liceo qua, cioè tu ti rendi conto che se tu guardi quando sei un ragazzo, soprattutto l'anno del liceo, e l'anno io dico entri bambino, esci adulto, devi anche divertirti. E di solito quello in cui ti diverti, pensi che potrai continuare a divertirti. E quindi l'idea di questo spazio, e qui diciamo mi piace chiudere, non era solo per la scuola. Con l'idea siamo entrati nei laboratori della città e quindi lo scopo del Malpighi Lab era proprio quello non solo di dare possibilità ai ragazzi del liceo Malpighi di sporcarsi le mani, di giocare, di sognare, di costruire, ma la città di Bologna durante l'estate, durante i momenti che ci sono stati diciamo nel percorso dei laboratori della città, di dare spazio anche ad altri ragazzi, ad altre persone che volessero di nuovo sognare che la tecnologia non è solamente per i grandi guru. La tecnologia, il capirla a tanti gradi, a tanti livelli, e il poterla approcciare in maniera scherzosa, di cosa gioiosa, di sfida, quindi abbiamo anche l'idea di fare questi giochi, di fare queste competizioni. Il mondo è una sfida, ma la sfida per chi l'affronta è divertimento.